Famiglia, oggi comiamo lucchettini reggiano. Chi vuole di spinacca e chiezzo? Io. E dove? Ricchietze, mamma, grazie. Chi vuole di jamone e chiezzo? Io. E dove? Sì. Chi vuole di polo e calavazzo? Io, amore. E te no. E perché? E perché no? Perché? E entonces io. Dome, no, no. Ah, allora Sicilia. Eh, Sicilia. Ah, Sicilia. Ah, me hiperventile. Eh, ¿puedo entonces comer los del nono? Eh, ¿qué pasó? ¿Dónde vai? Mamá, mamá.